Paolo Prato presidente di confedilizia al polo universitario questo corso per diciamo un avvio un approccio al diventare amministratori di condominio è così? Sì bene pomati oggi abbiamo fatto la prima esercitazione pratica effettiva nella specie coadiuvati dal dottor Parisi e abbiamo applicato una metodologia interattiva simulando proprio in tutte le sue forme e in tutti i suoi contenuti un'assemblea condominiale quindi prima il dottor Parisi che ringrazio che è coordinatore regionale di Gesticond ha prima fatto una lezione frontale con i contenuti e successivamente insieme abbiamo realizzato questa simulazione che consente poi al corso quindi di realizzare sia la parte pratica ma anche di fornire delle metodologie assolutamente innovative. Ecco Michele Parisi anche perché per un amministratore l'assemblea di condominio è un passaggio fondamentale ma bisogna anche saperla affrontare insomma scoprire anche qualche segreto che si impara con anni di esperienza sul campo? Beh direi di sì è un po' una prova d'esame che tutti i giorni o in tutte le occasioni assembleare ci troviamo a dover affrontare credo che questa impostazione che insieme con l'avvocato Paolo Prato presidente di confedilizia e il sottoscritto abbiamo voluto dare è un segnale di oltre che dell'aspetto puramente legale anche di un aspetto meramente pratico spesso ci si trova davanti a dei contesti assembleari dove purtroppo la mancata formazione porta inevitabilmente a errori disguidi e disagio in generale. Lo scopo di questi corsi di formazioni che sono ovviamente obbligatori per chi vuole iniziare a fare questa attività questa professione hanno proprio come obiettivo quello di dare una formazione a 360 gradi quindi questa idea di diciamo di rendere una lezione anche dinamica sotto questo profilo e non solo un insieme di contenuti teorici e tecnici ci aiuta a dare una maggiore comprensione agli allunni e agli allievi e devo dire che la platea questa mattina ci ha dato una risposta molto positiva perché ha capito che lo scopo era quella non solo di dargli una formazione di base ma dargli anche un contesto generale di maggiore comprensione quindi suggerimenti a volte pratici psicologici di come muoversi all'interno di una di una di una di una attività collegiale come quella dell'assemblea di condominio tra l'altro un'assemblea diciamo a tutti gli effetti pratica e vera perché c'erano persone in presenza ma anche tantissimi collegati da remoto ormai si usa e beh direi di sì perché ormai questo covid ha portato anche con la successiva legge del 2020 la 126 anche ad una dinamicità virtuale per cui oggi come amministratori immobiliari ci troviamo ad affrontare delle assemblee promiscue dove ci sono sia persone in presenza che assemblee virtuali quindi con a volte discussioni un po' difficili da tenere perché parliamo su due livelli diversi ma dall'altra parte hanno dato la possibilità a tante persone anche distanti di raggiungere le assemblee condominali e quindi le problematiche note dei viaggi dei trasferimenti è venuta meno perché sia aperta questa questo nuovo scenario ecco